Presidente, come associazione strutture socio-assistenziali pugliesi voi monitorate puntualmente l'RSA del territorio, ancora di più da quando è iniziato il Covid. La situazione attualmente qual è e quali sono le criticità maggiori? Dei piccoli focolaio cluster ancora ci sono all'interno dell'RSA. C'è da dire però che le conseguenze di questi contagi sono quasi del tutto inesistenti. I nostri ospiti hanno quattro vaccinazioni ed effettivamente abbiamo una percentuale di sintomatici molto alta o di pausi sintomatici. Manca ogni forma di socializzazione. I gruppi di volontariato non hanno accesso da prima del Covid. È veramente una situazione dal quale ci auguriamo nell'interesse degli ospiti e dei pazienti che con uno sforzo e un po' di coraggio si possa uscire, soprattutto da parte delle istituzioni. I parenti degli ospiti che cosa vi dicono? C'è molta ansia, c'è ancora molta ansia che poi viene scaricata anche sulle strutture e purtroppo sul personale medico, infermieristico, sugli os, comportamenti che comprendiamo che sono dovuti a questo stato di cose. I parenti sono veramente sfiniti, non ne possono più di questa situazione. Voi lanciate un appello importante a favore degli ospiti dell'RSA. Vi aspettate finalmente un intervento deciso da parte delle istituzioni? Dal governo non mi aspetto nulla. La regione Puglia in questo caso dovrebbe avere il coraggio di assumere iniziative di questo genere perché lo può fare e quindi di dare un'effettiva riapertura all'RSA.